In vista della possibile riapertura scaglionata della didattica in presenza anche la costiera amalfitana si organizza ed è previsto per domani e mercoledì uno screening dedicato alla popolazione scolastica. Alunni, docenti ma anche genitori sono stati invitati domani dalle 9 alle 12 e 30 a recarsi al poto di Maiori. Lo screening è dedicato agli alunni della scuola dell'infanzia e di quella primaria dell'istituto comprensivo Sasso di Amalfi, dell'istituto paritario bianco e dei loro familiari conviventi. Il personale docente Ata De Plessi potrà regarsi ad effettuare lo screening senza prenotazione. Si tratta di un'analisi di tipo facoltativa ma fortemente consigliata dai sindaci. Ieri Andrea Reale, primo cittadino di minori delegato alla sanità per la conferenza dei sindaci della costa d'Amalfi, aveva fatto suonare un campanello d'allarme. In tre giorni si sono raddoppiati i casi di cittadini positivi nei comuni che vanno da vietri sul mare appositano. Il totale nel territorio è oggi di oltre 100 casi ma si attende l'esito di circa 300 tamponi relativi a contagi stretti. Uno degli aspetti preoccupanti di questi dati è che buona parte dei nuovi contagiati è asintomatica. Per il sindaco di minori ha acclarato che la ripresa dei contagi è avvenuta in ambito privato e familiare per il mancato rispetto delle regole di prevenzione durante le festività.